Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la seconda maglia dell'Olanda per i prossimi mondiali in Qatar, quelli che si stanno disputando. La maglia da calcio da trasferta della Coppa del Mondo Nike, Olanda 2022, presenta un colore principale bruscuro, Deep Royale. Nike lo combina con un accento rosso-arancio brillante per loghi, arabe nero red e grandi applicazioni nere. In effetti, il design generale ha una chiara somiglianza con la divisa da trasferta dell'Olanda del 2000. La maglia da trasferta Nike, Netherlands 2022, è la prima maglia blu da trasferta dell'Olanda dal 2016. Il paese ha avuto maglie alternative da trasferta blu royal scure cinque volte nella sua storia. Nel 1991-92, nel 98, nel 2000, nel 2014 e nel 2016. All'interno del colletto c'è la bandiera olandese. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Secondo me è veramente una bella maglia. I colori stanno molto bene insieme e peraltro le finiture sono veramente fatte benissimo. Qui in alto vedete il costo, che per questa maglia, con questa qualità, è veramente bassissimo. Peraltro il sito è ritornato ad avere delle spedizioni molto veloci. Questa è arrivata in 18 giorni. Vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!